Cari amici, vi devo delle scuse. Sono un bugiardo. Infatti in un video passato vi ho parlato di loro, delle Ailu S35 ANC e le ho definite le cuffie migliori sul mercato dotate di ANC ad un prezzo davvero ridicolo. Ebbene, con oggi vi porto una nuova verità, perché non sono loro le migliori cuffie a basso costo dotate di ANC, ma bensì loro, Ailu S30 ANC, la nuova versione di cuffie economiche ma ragazzi dalla qualità strepitosa in tutto costruzione, qualità audio e dotate appunto di cancellazione attiva del rumore a livello professionale. Ed eccole qua le nostre Ailu S30 ANC. Ma prima di partire davvero ragazzi mettete in pausa il video, andate nel box in descrizione, copiate il link d'acquisto, il coupon sconto e aggiudicatevele perché al prezzo che adesso vi andrò a rivelare è irripetibile, quindi non dovete lasciarvele scappare. Infatti proprio tramite il coupon dedicato ve le portate a casa a 22 dollari o eventualmente 23 dollari se prenderete la versione pro di cui vi parlo subito adesso. E quindi ragazzi a questo costo, beh parliamo praticamente di circa 20 euro, poco più, vi portate a casa un paio di cuffie decisamente costruite, ben realizzate e dall'ottima qualità. Disponibile in due colori, la dark blue che sembra più un nero e un bianco sporco, quindi potete anche personalizzare questo aspetto. Loro sono ben realizzate, sono delle cuffie over ear, quindi quelle che andranno a coprire interamente il nostro orecchio regalandoci già di base una sorta di isolamento dall'ambiente circostante. Loro hanno poi delle paraorecchie realizzate in pelle proteica che regalano un comfort per l'indossabilità per un periodo prolungato, un comfort decisamente di alto livello, ma soprattutto non è la classica ecopelle come si suol dire o similpelle. Dura molto più nel tempo, è molto più morbida e regala davvero una piacevolezza nell'indossarle. La stessa pelle proteica poi è utilizzata anche qui nell'archetto superiore, quello che si poggia sulla testa e quindi evita anche in questo caso dei fastidi. All'interno dei padiglioni troviamo poi le lettere L e R a indicarci appunto il verso cui le dobbiamo indossare e proprio nell'arco integrano anche un'anima in metallo che ci permette comunque di andare a regolare la grandezza dell'archetto, magari se avete il capoccione come il mio. Detto ciò ragazzi, il design è di tipo pieghevole, questo ci permetterà di risparmiare spazio. Possono essere ruotati sia i driver che proprio essere ripiegati su loro stessi, andando quindi a occupare davvero un pochissimo spazio. Purtroppo in confezione non è fornita una sacchetta, ma ragazzi ne potete reperire davvero a bassissimo costo sui vari store alternativi come Aliexpress, Temu o eventualmente anche su Amazon. Parliamo subito di un aspetto importante per cuffie del genere, che magari potrete utilizzare fuori casa perché siete dei pendolari, quindi sull'autobus e quindi fare lunghi viaggi. Beh, sappiate che con loro non dovete temere di rimanere a secco di energia, perché tramite la batteria integrata da 600.000 amperorari che si ricarica tramite ingresso USB Type-C otterrete 80 ore di autonomia con singola ricarica. Un'autonomia destinata a scendere a circa 50 ore qualora utilizzate sempre la cancellazione attiva del rumore. La ricarica avviene in circa due ore e mezza, ma in realtà bastano solamente 10 minuti perché loro sono dotate di ricarica rapida per ottenere 5 ore di ascolto musicale e quindi proprio a mali estremi, se rimanete a secco, quella piccola spintare di 10 minuti e riuscirete a portare a termine il vostro viaggio ascoltando musica o serie tv. Cuffie economiche, ma solo per quel che riguarda probabilmente l'utilizzo dei materiali che sono di tipo plastici, ma all'interno abbiamo tanta tecnologia. Parliamo innanzitutto di ampi driver in titanio da 40 mm e poi è presente il bluetooth 5.4, quindi quello di ultima generazione, che ci regala una latenza davvero bassissima, parliamo di 0,6 secondi, ma soprattutto la connessione allo smartphone, al tablet o al dispositivo con cui l'avete associato è davvero immediata e poi udite udite abbiamo anche a disposizione la connettività multipoint, ovvero possiamo associare le nostre iLoo S30 ANC a due dispositivi contemporaneamente, magari per gestire la musica, video e quant'altro su un dispositivo e le chiamate sull'altro. Peraltro compatibili con Android e iOS è disponibile anche un'applicazione proprietaria sempre per entrambe le piattaforme e questa applicazione ci permette di andare a regolare anche alcuni preset a livello audio, ma purtroppo non possiamo creare una curva di equalizzazione personalizzata. In realtà l'applicazione a parte questo non permette altro se non quella di gestire direttamente la modalità game oppure di scegliere in maniera visiva se attivare o meno la cancellazione attiva del rumore oppure la modalità trasparenza. In realtà queste azioni possono essere totalmente gestite dalla cuffia stessa. Infatti sul driver destro abbiamo tutta una serie di comandi a partire da quello di accensione e spegnimento che in realtà è un pulsante multifunzione. Infatti attraverso di questo tramite un click doppio o triplo click possiamo andare a gestire direttamente il play, la pausa o lo skip della traccia musicale avanti oppure indietro. Non possiamo purtroppo richiamare l'assistente vocale del telefono, possiamo però controllare il volume tramite il pulsante dedicato o appunto con un ulteriore pulsante possiamo gestire la modalità di gestione del suono ovvero quella standard oppure attivare la modalità di cancellazione attiva del rumore che è di tipo ibrido. Riesce a sopprimere il rumore ambientale fino a meno 43 decibel e di tipo ibrido perché si adatta in base al contesto quindi una riduzione un po' più soft magari se siete in ambienti chiusi per arrivare alla riduzione massima magari se siete all'aperto e quindi magari cancellare i rumori del traffico o comunque i rumori mentre siete in metro, le voci e quant'altro. Abbiamo anche la modalità trasparenza e quindi se volete utilizzarle per fare una passeggiata all'aria aperta e capire se comunque le macchine stanno venendo contro di voi oppure no. A parte questo abbiamo però possiamo dire una quarta modalità infatti sempre su questo driver è disponibile una superficie touch e tramite questa superficie con un tocco prolungato potete andare a ridurre drasticamente il volume magari se una persona vi sta parlando e dovete fare una piccola conversazione e poi sempre tramite questa superficie touch con un doppio tocco o un triplo tocco possiamo abilitare direttamente la game mode oppure direttamente potenziare i bassi. E già a proposito di suono loro ci regalano un suono spaziale a 360 gradi peraltro sappiate che proprio la qualità audio è certificata IRS wireless e quindi abbiamo proprio una garanzia per quel che riguarda la qualità di altissimo livello praticamente a livello professionale. E qui ragazzi i bassi beh senza sfruttare proprio il potenziamento sono decisamente corposi senza però andare a sovrastare le tonalità medio o alte e quindi l'ascolto di tutti i generi musicali ragazzi è davvero pazzesco ideali per l'ascolto di film podcast e anche per gestire le chiamate infatti loro integrano ben quattro microfoni con cui anche andare a conversare ma se siete degli amanti del gaming ragazzi vi do un'ulteriore chicca perché queste cuffie hanno a disposizione due ingressi jack chiamiamoli così uno di tipo tradizionale da 3,5 mm per sfruttare le cuffie in modalità cablata quindi senza andare a utilizzare batteria e soprattutto per abbattere la latezza praticamente a zero ideale per il gaming per il video editing ma all'occorrenza sempre per il gaming sappiate che potete integrare anche un piccolo microfono aggiuntivo infatti è presente qui sempre sul nostro driver destro un ulteriore ingresso leggermente più piccolo del classico da tre e mezzo con la possibilità appunto di inserire un microfono fornito in dotazione la versione pro un microfono direzionale di quelli insomma tipo da call center con cui andare a effettuare direttamente delle conversazioni con il vostro giocatore magari che sia compagno di squadra o che sia il nemico e direi di giungere alle conclusioni perché queste ilu s30 anc evoluzione del modello passato ls35 offre tante chicche in più a partire da una maggiore autonomia una maggiore stabilità del bluetooth infatti abbiamo un 5.4 e comunque una cancellazione attiva del rumore che si conferma a livelli professionali ideali quindi per ogni utilizzo se siete degli amanti della buona musica e soprattutto della buona qualità potete gestire tranquillamente anche le chiamate con un'ottima cattura da parte dei microfoni e all'occorrenza sfruttarle anche per il gaming sia in modalità cablata che eventualmente potete dare un incipiti più alla vostra voce tramite proprio un microfono dedicato a tale scopo e quindi ragazzi ritorno a dire che per poco più di 20 euro per la precisione 22,39 centesimi di dollaro beh vi aggiudicate un paio di cuffie con una qualità pazzesca sono comode da indossare e non sfigurano rispetto a modelli più professionali e quindi ragazzi io ve le stra 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 consiglio naturalmente qui sotto in descrizione troverete anche il link alla recensione testuale per maggiori approfondimenti ma ribadisco correte a comprarle perché a questo prezzo probabilmente non le troverete mai più detto ciò per Emanuele è tutto io vi ringrazio per la visione e ci vediamo a un prossimo video ciao ciao